un cordiale saluto ben ritrovati carissimi telespettatori eccoci qua di nuovo in diretta alle sette e mezzo del mattino belli pimpanti svegli per ricominciare una giornata di lavoro una giornata di riposo per chi se lo può permettere una giornata uggiosa lo vedremo tra un istante con la telecamera che ci mostra una città che avvolta un tempo da lupi cominciamo dal santo del giorno vediamo il santo di oggi oggi sono i santi paolo e tatta sposi e martiri sole sorto alle 6.58 e tramonterà ai 19.02 dicevo del tempo da lupi eccolo qua questa è quella in diretta che arriva con le immagini in movimento del pincio di fano il traffico scorre comunque a quest'ora del mattino presto che cosa c'è lì al pincio un po di auto parcheggiate credo qualcosa non so c'è qualche iniziativa forse la festa dei fiori oggi qualcosa del genere poi stanno preparando probabilmente andiamo invece sulla telecamera sulla webcam eccola qua sempre scattata pochi istanti fa nuvoloni carichi di pioggia che perdureranno ancora intanto sono 15 gradi 15 gradi la temperatura quest'ora del mattino dicevo perdureranno ancora per la parte della giornata la prima parte della giornata ci saranno infatti precipitazioni con rovescio temporale sparsi al mattino probabili lungo la fascia costiera poi il tempo andrà via via migliorando rimarranno le nuvole ma cesseranno le precipitazioni i venti sono moderati nord orientale il mare mosso molto mosso lungo la costa settentrionale domani sabato 26 nove 26 settembre parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti a ridosso dei rilievi possibilità di locali rovesci nel settore montano della regione le temperature sono senza variazioni di rilievo i venti moderati da nord il mare sarà mosso molto mosso lungo la costa meridionale domenica 27 settembre avremo cielo parzialmente nuvoloso con maggiore addensamento a ridosso dei rilievi avremo anche possibilità di locali rovesci nel settore montano della regione le temperature sono senza variazioni di rilievo i venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali il mare sarà mosso o molto mosso allora temperature senza variazione di rilievo bisognerebbe dare però e metterci anche il riferimento e poi da lì dire che non varia perché così dobbiamo prima domandarci quanto è la temperatura andiamo a vederla sotto eccola qua allora si variano tra i 17 gradi del 5 del mattino ai 21 gradi più o meno tra 16 e 20 in provincia di Pesaro Urbino ok questo per darvi un'idea allora andiamo subito sul resto del Carlino questa mattina il racconto del consiglio comunale che si è tenuto l'altra sera a Monbaroccio clima caldo a Monbaroccio inizio di fusione tra gli insulti il sindaco Vichi lo ormai lo conoscete tutti eccolo qui ignora la minoranza e conferma gli accordi con Ricci in consiglio comunale essendo un piccolo comune 2000 anime il consiglio comunale ha pochi numeri la minoranza è formata solamente da tre persone contro i sette compreso il sindaco della maggioranza comunque il sindaco dicevo ignora completamente la minoranza e conferma gli accordi con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci tra l'altro la maggioranza ha bocciato anche la mozione presentata dai tre della minoranza che chiedeva con questa mozione chiedevano la minoranza chiedeva che i beni restassero a pannaggio dei Monbaroccesi e lì davvero è successo di tutto andiamo sulla pagina di fama invece del resto del Carlino sulla croce azzurra ora viene fuori tutta la magagna interviene Floro Bisello dell'Adusbef dopo il blitz del programma Mediaset che l'altro giorno è arrivato a Fano alla croce azzurra si è arroventata la linea telefonica dell'Adusbef Marche in tanti hanno chiamato ieri l'avvocato dell'associazione che tutela gli ex lavoratori il cui esposto denuncia ha smosso le telecamere appunto della trasmissione di Italia 1. Vincenzina Turiani di Sinistra Unita invece dice adesso non la sento più come casa mia e dunque ha deciso di uscire dal partito. La goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo è stato il comunicato con cui la segreteria di Sinistra Unita l'accusava di razzismo per aver raccontato al giornale ma ancora prima su Facebook di aver visto sull'autobus Fano Pesero molti straniere di colore viaggiare impuniti senza biglietto Terme di Carignano attacco al comune la società chiederà 10 milioni di risarcimento se non approverà la variante sotto fondazione cassa di risparmio di Fano il consiglio non finanzierà ulteriori opere e completerà solo palazzo Bracci Pagani nel 2016 solo un tuffo nella cultura dunque niente soldi per la piscina. Dateci lo stabile dei passeggi dopo le polemiche del caso Grizzly ora lo chiedono i giovani di Forza Italia lo vedete in questa fotografia è uno stabile che si affaccia proprio sul soccorso che si chiama il corso Viale Mazzino una roba del genere e quindi adesso chiedono perché a noi non ci date in modo regolare questo stabile qui non si placano dunque le reazioni al blitz di Carabinieri Polizia e Guardia di Finanza il portavoce dei ragazzi del Grizzly davanti alle telecamere di Fano TV ha spiegato perché per circa tre ore un cordone di persone ha impedito alle forze dell'ordine di effettuare controlli sanitari e fiscali qui invece a destra la prosa la prosa vale 18 ore di fila e tanta l'attesa sono le ore trascorse in attesa da una 87enne Giorgetta Buccellati che a quasi 90 anni ha passato tutta la notte in bianco al teatro della fortuna e la professoressa Buccellati la vedete in questa immagine pubblicata stamattina sul resto del Carlino con Ivan Cottini i desideri sono tra le stelle domani a Montemaggiore al Metauro c'è uno spettacolo per l'Aism a cura di Ivan Cottini alle ore 21 nella centralissima piazza Italia una kermesse che appunto è stata ideata da Ivan Cottini il fotomodello di 31 anni di Fermignano affetto da tre anni da sclerosi multipla è diventato l'emblema della lotta a questa devastante malattia a Saltara invece si parlerà in consiglio comunale della fusione dei comuni si discuterà di questa opportunità per qualcuno di problema come abbiamo già visto per qualcun altro si discuterà dicevo di fusione nella seduta consigliare di Saltara convocata dal sindaco Claudio Guccioni questa sera alle 20.45 aspetta che vi dico anche dove comunque sicuramente nella sede del consiglio comunale di Saltara ma due pagine il resto del Carlino questa mattina dedica alla fine del fermo pesca finisce il fermo pesca ma c'è l'insoddisfazione tra gli operatori noi ci soffermiamo soltanto su una di queste due pagine i pescatori parlano di una formula ormai vecchia di 30 anni che va comunque sicuramente cambiata il rivenditore dice il pesce c'è ma non di tutti i tipi alcuni prezzi sono rimasti stabili mentre sono cresciuti calamari, polipi, scampi abbiamo pescato più di tre quintali di cozze a due o tre metri di profondità le vendiamo a due euro al chilo e sono naturali comunque dobbiamo comunicare per via telematica quantità e qualità del pesce pescato oppure veniamo multati e adesso invece cambiamo giornale e apriamo la pagina di Fano del Corriere Adriatico intanto l'articolo principale è quello che riguarda l'estate che è appena trascorsa e nella quale a Fano è mancato sicuramente l'evento trainante l'evento clou come Senigallia abbiamo già detto più volte ha per esempio il festival, quello musicale, il Jamborì a Pesero quest'anno si è affacciato con quattro candele questo grande evento che è stato appunto la notte di San Lorenzo Fano non ha avuto certamente questo evento trainante e ne parla Fiorelli della Confesercenti reduce comunque dal successo del festival del Brodetto che però come abbiamo visto si è svolto ormai a estate concluse insomma possiamo dire anche se il tempo ha aiutato il festival del Brodetto si è svolto a settembre parla Fiorelli, dice si sono rivisti gli stranieri ma alle iniziative fanesi serve più appeal a livello nazionale il consigliere invece regionale Boris Rapa ribadisce il potenziale dei gemellaggi e chiede di promuoverli con efficacia sotto un po' di politica con i giovani azzurri che si candidano a gestire lo stabile dei passeggi qui si affaccia un volto nuovo della politica ma è giusto anche sponsorizzarli questi ragazzi adesso a prescindere dal fatto che siano di Forza Italia potevano essere di qualunque altro partito sia a destra che a sinistra però è giusto che insomma oltre alle solite facce ci siano anche volti nuovi, giovani nuovi da lanciare sperando che portino buone idee a questa città e diano un buon contributo comunque chiedono di gestire questo stabile dei passeggi qui parla Domenico Carbone poi sopra invece rubava portafogli al mercato una donna è stata denunciata il marito l'accompagnava in auto per i vari appuntamenti settimanali decine di furti messi a segno Solaris, silenzio assoluto dopo il blitz trasporti sanitari, i passaggi di proprietà dalla One Emergency alla cooperativa Ollus mostrate due fatture dove un'ambulanza era impegnata nello stesso giorno e nella stessa ora in posti e servizi diversi, dunque capite che c'è qualcosa evidentemente che non va contro la società un esposto ed una denuncia i sindacati hanno già evidenziato incongruenze poi segnalate all'ufficio provinciale del lavoro l'altra pagina di Fano e Valle del Cesano da San Lorenzo in campo elementare, chiusa per due giorni stop per i lavori di bonifica dell'amianto nel vicino stabile della materna poi sopra a Pergola Fiera del Tartufo pacchetto cultura e cucina confermata l'iniziativa del biglietto da 20 euro per degustare e scoprire le bellezze pergolesi andiamo ancora sul, restiamo ancora sul Corriere Adriatico fusione sì ma anche per Monbaroccio movimentato Consiglio Comunale ma alla fine la delibera passa la pagina di Pesaro invece del Corriere Pesaro Cultura, ecco lo statuto elaborata una prima bozza in passe sulle figure apicali e sulla ripartizione dei costi di gestione fra i soci, fondatori e promotori ci sono il Comune di Pesaro la provincia e la fondazione Cassa di Risparmio e poi la notizia che la pioggia ieri a Pesaro ha cancellato la processione del patrono la festa di San Terenzio è stata celebrata all'interno della cattedrale l'arcivescovo investiamo nella formazione specie del laicato e adesso per chiudere la nostra segna stampa andiamo sul messaggero il giornale romano in evidenza mette la fotografia che riguarda la fusione ad alta tensione tra i comuni di Monbaroccio e Pesaro qui vedete colui che ha gestito i musei per 40 anni che ieri ha attaccato un biglietto un cartello, un foglio sul portone appunto di ingresso e c'è scritto, cerchiamo di leggerlo insieme lo leggo con voi per la prima volta i musei sono chiusi per svendita per informazioni rivolgersi al comune di Pesaro oppure ha messo un numero di telefono che occhio e croce dovrebbe corrispondere appunto a un centralino di Pesaro perché 0721 3 1 più o meno il 3 corrisponde a Pesaro e sotto c'è scritto la direzione firmato la direzione il marito la scorta al mercato per borseggiare le donne più anziane sessantenne denunciata per furto aggravato dalla polizia di Fano centro, rivoluzione, sosta e arredi meno auto e riqualificazione delle zone urbane un piano da un milione e mezzo interventi del comune in nove luoghi si comincerà dalla piazza del conservatorio andiamo sulla pagina di Fano del messaggero perché anche qui in evidenza c'è la denuncia a carico della Croce Azzurra denuncia dei sindacati avevamo già denunciato CGL Cislewil c'è una segnalazione all'ispettorato in attesa dell'esito in agitazione gli autisti del trasporto sanitario che lavorano nelle cooperative da due mesi questi lavoratori sono senza stipendio e l'avvertenza si annuncia difficile fa discutere il blitz delle Iene per questioni riconducibili alla gestione precedente poi ritrovata l'armonia è tempo di progetti per il carnevale seduta ad esordio intorno al tavolo tecnico sul carnevale di Fano cui hanno partecipato circa 40 persone tra organizzatori, carristi amministratori pubblici esponenti delle associazioni e dell'associazionismo e di categoria c'è interesse il clima è migliorato si può ben sperare ha detto e riassunto in poche parole il carrista Ruben Mariotti alberghi come contenitore di cultura Confesercenti rilancia l'esperimento si parla di Art Hotel ed è stato illustrato ieri nella sede appunto della Confesercenti di Fano i giovani di Forza Italia dicono dateci i passeggi al Sangallo invece al bastione c'è Casa Matte il festival dell'illustrazione poi al Pincio ecco qua la festa dei fiori di cui vi dicevo la festa dei fiori 2015 che occuperà l'intero fine settimana nella zona del Pincio e delle vie collegate dove sono gli stand di circa 30 espositori questa mattina alle 11 la cerimonia inaugurale all'Arco d'Augusto ecco allora che come abbiamo visto dalle immagini poco fa in diretta quelli erano erano gli stand della festa dei fiori mi fermo qui non c'è altro tempo per la rassegna stampa vi auguro di trascorrere una piacevole e serena giornata anche in nostra compagnia sul canale 17 di Fano TV ci vediamo stasera arrivederci a